Ciao a tutti, benvenuti in questo stand Canon a Photoshop Roma 2012. Io sono David Metalli e mi occupo dei prodotti video in Canon Italia. In questo Photoshop 2012 Canon mette in mostra buona parte dei prodotti di punta della sua produzione con soluzioni che spaziano a 360 gradi nel mondo dell'imaging. Non per nulla la filosofia aziendale parla di we speak image, quindi noi parliamo immagine. E proprio dell'immagine Canon è in grado di fornire soluzioni professionali dal punto di vista a 360 gradi. Quindi spaziando dalle periferiche di input pensiamo alle nuove reflex digitali EOS 1DX, 5D Mark III così come le nuove compatte professionali come PowerShot G1X o la nuova macchina dedicata alla cinematografia come EOS C300 arrivando proprio all'output, che storicamente è stato un output cartaceo della fotografia quindi tutte le soluzioni di stampa, stampa a largo formato piuttosto che stampa come Pixma e Pixma Pro 1 dal punto di vista del modello di punta di riferimento. Immagine che oggi sono non più solamente statiche ma anche in movimento e quindi anche le soluzioni di output si differenziano per avere anche dell'output video pensiamo quindi a tutta la gamma di videoproiettori ad esempio tutta la gamma XSID e in particolare la gamma da installazione Canon ha appena introdotto sul mercato i VX 4000 quindi un proiettore XSID da ben 4000 lumen e ha appena annunciato un nuovo videoproiettore sempre della gamma VX SID quindi un VX 5000 da 25000 lumen quindi modelli da installazione estremamente dedicati, estremamente utili per tutto ciò che è la visualizzazione di contenuti foto e contenuti video di alta qualità in questo io vi saluto e vi do appuntamento qui al Photoshop 2011 nello stampa Canon Italia